Prestazioni potenti e silenziose per il tuo rasa erba. Vi presentiamo il motore Briggs & Stratton serie 625E prodotto negli Stati Uniti. Si avvia senza fatica grazie alla tecnologia Ready Start di Briggs & Stratton che elimina ogni operazione manuale prima della messa in moto. Basta tirare la fune e il gioco è fatto. 8.5 Nm di coppia forniscono la potenza per un taglio veloce anche nell'erba più alta. Più alta è la coppia, più potente è il motore. Il motore serie 625E è ideale per prati sino a 1000 m2. Il taglio dell'erba è più silenzioso grazie alla marmitta Super Low Tone. Prestazioni stabili e costanti grazie al carburatore galleggiante che assicura un flusso continuo di benzina al motore. Si adatta in automatico alle condizioni del tuo parato grazie al regolatore di giri meccanico che modifica il livello di potenza in base alle necessità. Estrema manovrabilità e rapporto peso-potenza, 30% più leggero rispetto ad altri modelli della stessa categoria. Tutti i nostri motori sono supportati dalla capillare rete di assistenza Briggs & Stratton. Con oltre 20.000 rivenditori in tutta Europa trovi sempre un'ufficina autorizzata vicino a te. Si avvia senza fatica grazie alla tecnologia Ready Start di Briggs & Stratton che elimina ogni operazione manuale prima della messa in moto. Basta tirare la fune e il gioco è fatto. Il motore serie 625E ti fornisce la potenza per un lavoro ben fatto. Briggs & Stratton. You. Powered.